Altro che la guerra di cent'anni, la guerra di secessione, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale Insomma, qui abbiamo un altro capitolo di storia, ovvero sia la guerra dei vermi Chissà, un giorno vedremo questa guerra anche nei libri di storia Ciao ragazzi, ed eccoci qui per la prima volta su War's Rumble Ovvero sia la guerra, anzi la rissa dei vermi Quindi ragazzi siamo qui sulla Playstation 5 perché questo gioco è gratuito per chi ha l'abbonamento Playstation Plus Quindi ragazzi è incluso e gratuito per i possessori dell'abbonamento Playstation Plus Ma comunque buon Santo Stefano, come avete passato questo Natale, la vigilia, tutto a posto Ovviamente quest'anno è molto particolare, manco ci siamo potuti spostare più di tanto Però vabbè, insomma Comunque, sono curioso di provare questo gioco perché insomma mi ha incuriosito questa rissa dei vermi Allora, abilità gioco multipiattaforma Attiviamo? No Il crossplay lo possiamo anche disattivare Così giochiamo soltanto con la gente dei Playstation 5 E avviamo addestramento? Direi di no ragazzi, non vorrei perdere tempo Non lo so, giochiamo, via No, per forza l'addestramento, niente, alla fine ho avviato l'addestramento Volevo avviare la mia prima partita Senza fare l'addestramento Ma facciamo un po' di addestramento Ok, siamo questo verme Fantastico, ma cosa Eh? Ma? Ma questa è una mazza Ma cosa? Aspettate Ho un'arma No, i grilletti adattivi, che figo Pure qui i grilletti adattivi sono qualcosa di incredibile Un po' la stessa funzione di Fortnite Insomma, quando dovete sparare Oppone resistenza il grilletto R1 Porca troia Vabbè, mi sono fatto male da solo Però, dai, e su Lo togliamo così Ah, non lo sapevo Vabbè, imparo un po' i comandi di questo gioco, no? Si può anche rotolare Non sapevo che i vermi rotolano Ma qua Oh, cazzo Chi è qua? Erbeleno Ok Così consumo Ah, che figo Il medikit Le prese d'aria Perfetto Dei condotti Andiamo qua giù Ok Abbiamo completato l'addestramento di base Ma anche durato tanto Benissimo Elimina 20 avversari Ok Ma non ci interessa Ma dai Che palle Che vuol dire? Allora, aspettate Ok E spara Perfetto Ah, tipo così Peccato ragazzi Che peccato Che peccato Vabbè Allora andiamo su deathmatch Vai Via 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 Vediamo come funziona Intanto qui abbiamo le missioni Come stare vedendo Infrigli Allora, abbiamo la nostra arma. Ma solo quest'arma abbiamo? Cazzo. E come fiamo qua? Ha successo a qualcuno. Cosa? Cosa ho appena trovato? Porca troia. Ah, così si ricarica. Perfetto, con quadrato. Eh, non lo sapevo. Aspettate. Aiuto. Ma, pangulo, mori. 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 No. No, no, no. Non voglio morire. Porca troia. Dai. 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 No. Cazzo. Per poco. L'uccidevo quello. È rimasto con 20 di vita. Non ci credo. No, vabbè. Volevo fare la nostra prima kill. Che cazzo. Che rosigata. Vai, verme. Eccolo. Mamma mia. Usiamo. Mamma mia. La nostra mazza. No. Cazzo. No, sono vivo. Che culo. Che culo. Che culo. Uh, ma quest'arma? Bella. Aiuto. Via. Via. Se scappa. Cazzo. Che dolore. L1. L1. Oddio. Oddio. Datevi un po' di vita. Vaffanculo. Mori. Vaffanculo. Mori. È morto. Sì. Ci godo veramente tanto. R1. Cosa? Cucine d'assalto. Perfetto. Bazooka. Non ho le munizioni però. Eh, raccogliamo questo. Ah. No. No, sono morto. Che cazzo, raga. No, vabbè. M'hanno ucciso. Vabbè, essendo la prima partita ci può stare che... Devo imparare un attimino i comandi. Però mi pare che ho fatto due uccisioni. Anzi, no. Mi sa che sono morto per due volte. Come si vedono le kill? Boh. Questa che cazzo ed è? Ok. Le munizioni. Ebbavangulo. Porca troia. Dai che ti uccido. Perfetto. Con la nostra mazza incredibile. Porca troia. Via. Se scappa. Questo che cazzo ed è? Oh. Interessante. Fuci la pompa. Ce lo prendiamo. Come si cambia l'arma? What? Porca troia. No. Ma dove cazzo? No, vabbè. Non l'ho visto. No, vabbè. No, vabbè. Allora. Questi c'hanno tutto. Jetpack. E mori brutto stronzo. Che cazzo ed è? What? Ma come cazzo mi ha colpito? Mi serve. Mi serve qualcosina, ragazzi. Qui cosa abbiamo? Fucine d'assalto. Aiuto. Aiuto. È morto. Sì. Ci godo veramente tantissimo. Allora. Qui che è? Ok. Orca troia. Passano dai condotti. Ecco perché. Non li vedo. Passiamo per di qua. No. Cazzo. Vai, vai, vai. Vai. Mamma mia. Mamma mia. Non muoiono. Non muoiono. No. No. Non c'ho le munizioni. Come cazzo è possibile? Ok. Eccomi. Oddio. Robot attivato. Cosa? Oh. Una bella chest. Bona. Pistola rampino? No. Meglio questo. Bello. Mamma mia. Mamma mia. Vai. No. È il babbo natale. No. Dove cazzo è finito? Non ci voglio credere. Porca troia. No. Via. Se scappa. Se scappa. Oddio. Che culo. Che culo. Via. 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 Ma che culo. Me poteva uccidere quello. Me poteva uccidere. Ok. Dove cazzo siamo arrivati? Non lo so nemmeno io. C'abbiamo delle bombe? Io direi di usarle qua. Cazzo. Mi sono fatto male da solo. Vabbè. Ah. No. Cambia arma. Che fa schifo questa. No. Cazzo. Porca troia. Avrà usato la mazza questo. Vabbè. Dai. Su. 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 Non so quante kill ho fatto. Mi sembra. Do cazzo se vedono i kill. Ah. È vero. Ma è team deathmatch? O no. Ah no. So dodicesimo. Vabbè. Buono. Buono. Quanti siamo? 26. Vabbè. Buono. Essendo la prima partita. Ragazzi. A me sta benissimo. Cosa abbiamo qua? Granata. Sciroppo. Luster al plasma. Cioè. È la madonna. È la madonna. Sì. Ma what the fuck? Ok. Ce l'abbiamo già il jetpack. Quindi andiamo sotto. Dai su. No. Che sfiga. Mi so colpito da solo? Com'è possibile? Urca troia. No. Munizioni esaurite. Ecco perché. Vaffanculo. Non ce l'avevo capito. No. Vabbè. Però carina sta modalità. Sti vermiciatoli. Che se scontrano. Allora. Che cazzo è questo coso? è il robot madre. Il robot madre. È il cuore del robot. E porca troia. Oh. E dai. Mi servono altre armi. L'ho preso. Porca troia. Quasi moriva. restano 60 secondi. E vabbè. Quello non lo prenderò mai. Eh no. Ma ho ucciso. Ma da. Ma che cazzo. Ma certi hanno delle armi incredibili. Secondo me. Rigeneriamo. Ma rieccoce. Corri. Corri. Vai. Verme. Dai. Dai. E dai. Con le mazzate. No. 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 Meglio che scappamo. Scappamo. Uh. Porca troia. Bell'arma questa. Mi piace. Ok. Ma un medikit. Qua non l'ho visto. Ancora che non l'ho visto ragazzi. Porca troia. Dai. Oh. Che culo. Che culo. Che culo. Che culo. Che culo. No. Sono morto? No. Che cazzo è successo? No. È finita la partita. No. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Allora. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Quattordicesimi. Vabbè. Vabbè dai. Ci sta. Abbiamo fatto tipo 6 kill. E 7 morti. Non lo so ragazzi. Ah no. Eliminazione 7. E praticamente 6 morti. Vabbè. Ci sta. Dai. Ho fatto 7 kill. Come prima partita ci può stare. Perché no. Dai. Come riscaldamento. Ci sta. Ah. Vedete. Si potenziano anche le armi. Ecco perché alcuni mi uccidevano subito. Eh. Questo non lo sapevo. Direi di andare con la prossima partita. Dai. Stavolta ragazzi. Penso di fare di meglio. Ok. Ci siamo. Ah. Vedete. Il totale di giocatori sono 32. In questo caso siamo 29. 29 su 32. Quindi al massimo 32 persone. Siamo in quest'altra mappa. E. Guardate adesso eh. Mamma mia. No. Boom. Ma non muoiono. Non ci voglio credere. Ma non muoiono questi. Ma non muoiono. Ma cosa. Lancia pecore. Cosa. Oddio. Ma che esplosiva quest'arma. Ma che figa. Ma che roba ragazzi. Tiè. Magna testa pecora. Tiè. Magna testa pecora. Porca troia. Tiè. Tiè. E muori brutto stronzo. Ucciso. Si ce l'ho fatta. Ma ci godo. No. Che cazzo succede. Che cazzo succede. Boni. Mamma mia. Beccate sta pecora. Ma è esplosiva quest'arma. Ma quante OP. Madonna. Come traccia. I nemici. Ma quante figa. St'arma. Ma chi la butta per terra più. Allora. Boni tutti. Che è successo di tutto. Non ci credo. Ehm. No. La granata di merda. Da. Beh. Beh. Vabbè. Allora. Proseguiamo. Non stiamo fermi ragazzi. Perché la mappa è bella grande. Perché la mappa è bella grande. Possiamo vedere anche dalla minimappa dove stanno i nemici. Mi canta roba. Beccate sta pecora. Ole. L'ho ucciso. Ma non ci credo. Ma quante chi le sto facendo. Sono primo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Allora. Vai 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 vai. Non perdiamo la concentrazione. Magari. Porca putana. No no. Non esplodere. Cazzo. Vai su. Sbrigate. Sbrigate. Arrampicate. Aiuto. Magna resta pecora. No. Che culo. Di poco. È sovravvistuto di poco. Non ci credo. Porca troia. Quanto ci sto rosicando. E muovete. Su. Corri. Quanto è lento sto verme. Allora. Qui cosa abbiamo. Ah. Di nuovo questo. No. Dai. Ma come è possibile. Non l'ho colpito. Aiuto. No. Vabbè. Aiuto. Eh. Vabbè. Eh. Vabbè. Mi ha ucciso. Eh. Vabbè. E che potevo fa. E che potevo fare. Vabbè. Rigeneriamo. Dai. Su. Non perdiamo le speranze. Siamo. Eh. E la madonna. Siamo quinti. No. Non ci voglio credere. Abbiamo perso il ritmo. No. Oh. Troia. E vabbè. Niente. Niente da fare. Niente da fare. Quello c'è un'arma più veloce della mia. Cosa abbiamo qua? Le monete? No. Che schifo le armi però queste. Questa me la prendo. Mamma mia. Beccate questo. Bella starma. Bella. Ma quanta esplosiva. Un medikit. Bello. Ci sta. Ci sta. Ce l'abbiamo il medikit. Quindi me posso anche curare. Allora. Andiamo da quelli. Stanno qua. Se non sbaglio. Stanno qua. Mamma mia. Beccatevi questo. Uh. Chezzo. Medikit. Vai. Bravissimo. Madonna. No. Cazzarola. Non c'ho le munizioni. Sapete che ve dico? Mamma mia l'ho ucciso. Non ci credo. Via via. Scappa. Porca troia. Scappa. 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 Chi è? Magnate questo. Magnate questo. Magnate questo. Magnate questo. No. No. Sì. Che culo. Non ci credo. Non ci credo. Ma no. Che ignoranza. Non ho l'ascensore. Vabbè. Ho fatto bene. Ho fatto bene. Scappa. 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 In questi casi è meglio scappare. O sbaglio. Eh. Jetpack. Perfetto. È quello che ci voleva. Vai. Se vola. No. Allora. Cosa abbiamo qua? Eh. Madonna. Cosa è sto robo? Un laser incredibile. Ah. Ma questo. È una torretta ragazzi. Ma no. Ma lancia i laser. Bellissima. Bella. Ma ci sta. Ho posizionato lì con una torretta mia personale. Bella. Mi piace. Mi piace ma. È meglio che la posizioniamo qua. Su. Bravo. Chi è? Magnate questo. Chi è? Allora. Più che altro. Devo cambiare arma. E non c'ho più un cazzo. Boni. No. Che cazzo mi mira a me? Sti cosi di merda. Attenzione. Mi stanno mirando. L'ho uccisi. Ma che figo ste torrette. Mi piacciono a me le torrette ragazzi. In tutti i giochi ragazzi a me le torrette piacciono. Ok. Abbiamo raccolto il bazooka. Quindi. Andiamoci da fare. Andiamoci da fare. Dove stanno tutti? Stanno giù. Si è spostato quello. Mamma mia. Mamma mia. Quanti nemici. E che cazzo. E quanti erano. Porca troia. No raga. Non l'ho uccisi nemmeno uno. Erano un bel po'. Cazzo. Ne potevo approfittare. Vabbè. Sono settimo. Sono settimo. E di qua. A stronzo. No. Ma ho ucciso prima lui. No. Di poco ragazzi. Quanto ci sto rosicando. No vabbè. Mi sto divertendo tantissimo. Devo dire la verità. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vai. 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 Mamma mia. Aia. Vai. È morto. No. Sì. No. Ok. L'ho ucciso. Che culo. Meno male che l'ho ucciso. Mi stavo in culare la kill. L'ho ucciso. No. Non l'ho ucciso. Cazzo. No. Cazzarola. Sempre questo. No. Ci sto rosicando. A parte che si possono personalizzare anche i vermi. Io non ho passato alla parte possiamo dire grafica. No. All'estetica di questo vermicello. Quindi è un classico verme. Verma arancione ragazzi. Vabbè. Restano 60 secondi. E oddio. Ci servono un po' di armi. Noi non abbiamo niente. Quella mi piace come arma. Quindi. Mamma mia. Fugile d'asalto. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. E' morto. Sì che culo. L'ho ucciso prima io. Meno male ragazzi. Se mi uccideva lui perdevo pure quell'arma. Incredibile. Ricarichiamo. Ok. Ora appena arrivano. Anzi andiamo noi. Spara. Vai. E' morto. Sì. Ci godo. Ma ci godo tantissimo. 10 secondi. E' finita la partita. Dai su. E' finita la partita. Cazzo. No. Lo potevo uccidere. Vaffanculo. Non ci voglio credere. Sopra la media. Attenzione. Siamo arrivati. Vabbè. Non. Nel. Podio. Però siamo arrivati. Fatemi un attimo vedere. Fatemi un attimo vedere. Siamo arrivati i settimi. Buona. Buona posizione. 12 kill. Ci sta. Vado. Una carneficina ho fatto. Insomma. Tanta tanta roba. Essendo questo il secondo game. Mi sono anche superato. Che figo comunque. Ci sta. E ragazzi. Andiamo un attimino nella lobby. Per vedere come personalizzare il nostro verme. Anche perché non l'abbiamo ancora fatto. Allora. Ah. Vedete? Che roba. Che figo. Tipo una roba del genere. Tipo natalizio questo. Che figo ragazzi. Pure gli occhi. Che figo raga. Tutti rossi. No vabbè. Incredibile. Incredibile. Proprio da incazzato. Da diavolo. Vai. Emote. Come emote. Pure le emote. Mo mettono. Come fortnite. Uno pseudo fortnite. Ragazzi. Oh che carino. L'arena. No vabbè. Ma perché non ho fatto le impostazioni prima. Cioè. Più carino così. Audio. Anche l'audio. Cioè. La voce del verme. Cioè. Io lascerei nervoso. Comunque. Annunciatore che abbiamo qua. Annunciatore tedesco. Non c'è l'italiano? No. Ma come? Non c'è italiano. Vabbè. Lasciamo. Annunciatore uno. Ma sti cazzi. Standard. Uh. Interessante. Vai mettiamo questo. A tema natalizio. No. No. Peccato che l'ho scoperto adesso ragazzi. Peccato veramente. Però. Vabbè. Armi. Abbiamo queste. Come avete visto. Possiamo potenziarle. A mano a mano. Che giochiamo le partite. Diventa ancora più potenti. E le possiamo sbloccare. Anche delle altre armi. Come vedete. Sono alcune. Anche bloccate. Comunque ragazzi. Direi di concludere. Questo primo episodio. Su. Warms Rumble. E beh ragazzi. Questo primo video. Su. Warms Rumble. Può fin così. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate like. Se è per questo. Vi ricordo che è scaricabile. Gratuitamente. Per i possessori. Dell'abbonamento. PlayStation Plus. E ragazzi. Tanta. Tanta roba. Per il cazzeggio. Sto gioco. È perfetto. Cioè. Ho voglia di portarvi. Altri video. Su sto gioco. Perché è incredibile. Ho fatto le prime partite. Come avete visto. Stavo capendo le meccaniche. Infatti. Nella seconda partita. Andata già meglio. E stavo per arrivare prima. Ma poi. Niente. Non ho continuato a fare kill. E praticamente. Ho perso la palla. Ma comunque. Fatemi sapere. Cosa ne pensate. In questo gioco. Chi ne è scritto. Iscrivetevi subito. Mi raccomando. I social. Li trovate qua sotto. In descrizione. Andatemi. A seguire. Anche lì. Se volete. Instagram. Lollo. Zero. The best. E telegram. Pioccia. Lollo. Zero. Due. The best. E ragazzi. Io vi saluto. Vi ringrazio. Per seguito. Tutto questo video. E. Ciao. 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 Ciao.